Il giorno e la storia Oggi è il 5 ottobre 1954, firmata l'intesa sul territorio libero di Trieste 2000, condanna definitiva della Cassazione per l'omicidio calabresi 1998, muore Federico Zeri Commenta il fatto del giorno Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana Oggi ricordiamo l'uccisione della missionaria laica Anna Lena Tonelli